Sono giorni un po' di amarezza, ma non ho mai pensato questo. Lei deve pensare che quando si condivide un ideale, dentro si prova come una forma che ti dà entusiasmo sempre. Magari ci sono dei momenti di sconforto, però si superano. L'idea che gli stranieri rubano il lavoro, portano malattie e commettono reati, a Riace non ha senso, svanisce, anzi Riace dimostra esattamente il contrario. C'è tutta la serenità di chi può affermare qualcosa per averla fatta, per averla vissuta e costruita, nelle parole di Mimmo Lucano, sindaco sospeso di Riace, intervistato ieri sera da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Sulla spiaggia del comune nel Regino, racconta Lucano, quella che ha regalato al mondo i bronzi, nel 98 è arrivato un vascello con a bordo 250 profughi curdi. Erano tutti attivisti del movimento di liberazione curdo, sono quasi diventato un attivista del PKK, confessa Fazio. Proprio per questo Lucano viene soprannominato u-curdu. E poi spazio al racconto sulla nascita del modello Riace, legato all'accoglienza dolce e ad un progetto vincente di ripopolamento di un borgo destinato altrimenti a scomparire. Nel 2015 Riace contava poco meno di mille abitanti, l'arrivo di 700 migranti ha ridato vita e speranza al piccolo comune. Poi tutto è diventato più difficile, i fondi arrivavano a Singhiozzo fino al definitivo blocco. Il 9 ottobre scorso il Ministero degli Interni ha ufficialmente chiuso tutti i progetti Sprar di Riace. Il resto della storia è nota a tutti, così come il fiume di solidarietà delle persone che hanno scelto di stare accanto a Lucano. Gente, come ripete, lo stesso sindaco che condivide l'idea di una differente umanità. Grazie. Grazie.